Si chiamava Gabriella Stradaioli, la 64enne originaria di Meldola e residente a Gloria di Bagnacavallo. La donna è rimasta vittima dell'ennesimo incidente stradale all'incrocio semaforico della Ravegnana con la statale adriatica a Ravenna. E proprio in questi giorni sono state posizionate le reti reancioni e le barriere che delimitano le aree a margine dell'incrocio per l'avvio della realizzazione della rotonda che deve sostituire l'incrocio e che dovrebbe partire a giugno. Nonostante l'installazione del photoride per inibire e multare coloro che attraversano la strada con rosso, l'innesso stradale si conferma particolarmente pericoloso. La donna era a bordo di una Peugeot 206 guidata dal marito e la vettura è stata centrata, mentre era in attesa di svoltare e trascinata contro un'altra automobile ferma al semaforo. La donna è deceduta sul colpo e mentre per il marito ci sono state lesioni di media gravità come anche per il conducente del furgone investitore. Ma sono emersi poi particolari inquietanti a qualche ora dalla tragedia, come il fatto che il 22enne riminese alla guida del mezzo investitore fosse noto per un pestaggio subito nell'agosto 2015 nel piazzale dell'aeroporto riminese nel quale rischiò di perdere la vista dopo alcuni giorni di coma. La patente del 22enne è tuttora valida ma sembra avesse dichiarato di recente a un quotidiano di non essere in grado di guidare e ora sia lui che il marito della vittima, ricoverati entrambi all'ospedale di Ravenna con lesioni di media gravità, verranno indagati per l'incidente.